si parla di subwoofer non un video per autocostruttori non un video con il dito e il naso alzato questo è bene questo è male questo giusto questo è sbagliato ma una chiacchierata sul subwoofer ed intorni per delimitare su che cosa siano non siano subwoofer su quali siano le problematiche su chi ha bisogno del subwoofer e chi non ha bisogno sulle varie tipologie di subwoofer vedremo che ce ne sono parecchie e su qualche curiosità su questo mondo del subwoofer ho detto subwoofer e non subwoofer perché subwoofer sub è un prefisso che arriva direttamente dal latino dal nostro latino così come super e quindi onore al merito la nostra lingua io poi mi chiamo sabino quindi a maggior ragione come spessissimo capita nel nome c'è già quasi tutto subwoofer vuol dire che stiamo parlando di un altoparlante che sta al di sotto di qualche altra cosa cioè del suo satellite un subwoofer può dirsi subwoofer solamente se lo relazioniamo con quello che gli sta sopra viceversa sarebbe un basso sarebbe un buffer ma non un subwoofer quindi vedremo quanto è importante accoppiarlo correttamente alla parte sopra sì perché il subwoofer serve per estendere o eventualmente rinforzare la gamma bassa di un satellite al quale va a completare appunto la mancanza di bassi che per qualche motivo il nostro satellite non ha o perché ci piace avere una dose di bassi maggiore ho detto ci piace avere una dose di bassi maggiore ma perché ci piacciono così tanto i bassi non è una cosa di cui vergognarsi volere più bassi volere un subwoofer ricordiamo che l'ascolto della musica è un piacere nessuno si deve appropriare della verità sull'ascolto musicale poi se parliamo di alta fedeltà lì allora ci sono dei limiti ma comunque chiunque libero di avere la dose di bassi che ritiene più piacevole e perché ci piacciono i bassi c'è addirittura chi ha scomodato l'evoluzione della specie le leggi di darwin addirittura per cui l'uomo che ascolta musica riprodotta da 50 anni ma la cui evoluzione deriva da 50 mila anni a un udito che è particolarmente sensibile e attento alle frequenze medio medio alte quelle dove risiede la voce umana dei propri compagni o peggio ancora il pianto dei propri bambini che reclamano attenzione o delle fiere delle belve feroci che ci stanno gradendo mentre molto meno sensibile ai suoni estremamente bassi più rari natura se non nel caso ad esempio di tuoni o terremoti che hanno più a che fare con l'immanenza del dio in terra ecco perché va a sollecitare la migdala in un modo così diverso e alcuni casi piacevole le basse frequenze ecco forse uno dei motivi per cui ci piacciono un altro motivo potrebbe essere semplicemente che fin da piccoli siamo tutti abituati a ascoltare diffusori quindi dal citofono all'impianto stereo che se buon di collins e di buona qualità hanno dei bassi e se invece piccoli e scadenti bassi non ci vanno quindi forse identifichiamo la presenza o meno di basse frequenze con la qualità dell'impianto fatto sta che i piaci i bassi ci piacciono e qualche volta ne vogliamo di più di quelle che il nostro impianto ha normalmente eppure i bassi nella riproduzione sonora sono un problema sono difficili da riprodurre e creano un sacco di problematiche abbiamo visto in alcuni video dove il video ad esempio sui nodi e modi di risonanza come le basse frequenze una volta immesse in ambiente creano dei problemi difficilmente risolvibile ma vi rimando il video appunto sui nodi e modi di risonanza tant'è che nella mia giovinezza c'era una corrente di pensiero una moda una delle tante mode che si sono susseguite nel cammino dell'alta fedeltà della riproduzione sonora una corrente di pensiero diciamo guidata dal famoso bebo moroni che teseva lodi disperticate su piccoli diffusori molto piccoli con woofer da 8 da 6 centimetri e mezzo ricordo le rcl le tablet e questi diffusori erano secondo quella scuola di pensiero a quella io stesso mi sentivo di appartenere particolarmente piacevole in effetti e non sono estremamente grazioso ruffiano eufonico si diceva ciò era dovuto sicuramente alla bontà del progetto alcuni di questi mini satelliti mini cassettine erano le anche le che folle rogers famose che tuttora apprezzatissima ma penso che gran parte della loro piacevolezza fosse dovuto al fatto che il loro progetto escludeva completamente le basse frequenze togliendo gran parte dei problemi connessi alla riproduzione tolto il dente tolto dolore quello che rimaneva piaceva tanto però tutto bene fin quando ascoltavi un duo chitarre voce se ascoltavi 1812 disco che conteneva il produttore contiene cannonate di veri cannoni ecco che le famose tablet non potevano esattamente dirsi ad alta fedeltà ma quella fu una moda che poi gli stessi frequentatori decisero di modificare di cambi evolvere in altre su altre vie e ad oggi a chi serve il subwoofer ea chi non serve premesso che serve a chiunque lo voglia e non serve a chiunque lo odi ma diciamo che può essere estremamente utile ad esempio all'ascolto in macchina negli impianti di hi fi car gli altoparlanti di serie sono per forza piccoli con cubature alle spalle molto piccole c'è un grosso mascheramento all'interno dell'abitacolo della macchina dovuto ai rumori di rotolamento ed ecco che lì si sente l'esigenza del subwoofer cioè di un basso estremamente potente fisico sicuramente poi sono utili a chi ascolta impianti home theater anche in questo caso proprio lo standard del 5.1 prevede che quel punto 1 si esattamente il subwoofer perché c'è un canale destinato appositamente alle frequenze basse e addirittura il regista e i collaboratori curano quel canale proprio aspettandosi che l'ascoltatore abbia un subwoofer che renda al meglio gli effetti sonori che stanno vedendo in quel momento nello schermo sempre molto desiderato e ricercato e il subwoofer nell'intrattenimento essendo il basso una cosa fisica ecco che un impianto per ritrattenimento un impianto da ballo disco pub ma anche in un negozio ma anche soprattutto nei nelle sale a tema o in alcuni parchi divertimenti dove la parte fisica di vibrazione infrasonica e molto ricercate lì i subwoofer vanno per la maggiore ancora il subwoofer ricercato da chi per sua natura è dotato a casa proprio sul lavoro di casse molto piccoline quindi ad esempio le casse di un computer che per loro natura appunto visto che devono stare sulla scrivania non possono che essere piccole oppure chi vuole completare la gamma di casse che gli piacciono particolarmente perché arredono molto bene e le vuole completare con un subwoofer appunto parlo ad esempio di appartamenti o di impianti di amplificazione in negozi ed uffici dove non si può certo sospendere muri o a controsuffitto di diffusori molto grossi ed ecco che il subwoofer è di molto aiuto chi non ne ha bisogno secondo me non ne ha bisogno il piccolo studio di registrazione parlo dell'home recording quelli che usano in monitor near field cioè quei piccoli monitor studiati per lavorare molto vicini a chi li ascolta c'è anche in questo caso abbiamo sul canale un video apposta sui monitor un video controverso perché non è facile capire non è facile far digerire che cosa sia un monitor da studio nella produzione normale musicale ancora una volta se parliamo di alta fedeltà di dischi destinati ad alta fedeltà lì lo studio monitor prende un'altra connotazione ma è proprio l'amante dell'alta fedeltà pura di quella elevata che non vede di buon occhio il subwoofer perché applicare un subwoofer ad una coppia di a questo punto satelliti è complicato è spesso da risultati che se da una parte aumentano ovviamente i bassi dall'altra parte sporca nel suono politissimo che l'audiofilo si aspetta vediamo perché ed ha tutto a che fare con l'accoppiamento appunto tra subwoofer e i satelliti che deve rinforzare allora un subwoofer abbiamo detto che è una cassa con un buffer destinato a fare frequenze molto basse non molto basse così a prescindere ma il nostro subwoofer deve andare a completare più che rinforzare i bassi che il nostro i satelliti abbiamo detto non ha quindi assolutamente è importante fare in modo che il nostro subwoofer abbia una risposta in frequenza più bassa del del satellite che va ad accompagnare questo punto un ditino lo alzo un po per dirvi attenzione quando guardate la risposta in frequenza perché ovviamente in molte adesso andranno a guardare la risposta in frequenza del satellite per vedere se va bene con la risposta in frequenza del subwoofer ma la risposta in frequenza va saputa leggere anche in questo caso abbiamo un video sul canale che parla della risposta in frequenza accenniamo un attimo la problematica alle quale mi sto alla quale sto alludendo e cioè spesso la risposta in frequenza viene declinato come da 20 a 20.000 hertz più o meno 3db questa è la dizione classica ma capita anche di vedere da 20 a 20.000 più o meno 10 db cosa vuol dire che a 20 hertz da 20 a 20.000 a 20 hertz più o meno 3db i 20 hertz si sentiranno con 3db di meno dell'ipotetica linea dritta se invece la risposta in frequenza che andiamo a leggere da 20 20.000 più o meno 10 db dobbiamo spottare dobbiamo aspettarci che a 20 hertz risposta in frequenza sarà 10 db sotto l'ipotetica linea di correttezza di linearità allora tra meno 3 e meno 10 capite che c'è una bella differenza quindi attenzione come si va a leggere la risposta in frequenza ma io non voglio che questo sia un video estremamente tecnico ma piuttosto divulgativo e diciamo che un buon subwoofer deve avere diciamo così una frequenza di risonanza più bassa della frequenza di risonanza del satellite cui è accoppiato della frequenza di risonanza ne abbiamo parlato guarda caso nel video del bus reflex e per farvi capire che cos'è vi invito a fare così allora se provate a fischiare fare una nota alta e poi fare una nota bassa vi accorgerete che non avete cambiato l'altoparlante che vede in bocca avete mosso la lingua avanti indietro modificandola la dimensione della cavità orale per cui con una dimensione della cavità orale più grande la frequenza è messa sarà più bassa cioè avete accordato la vostra bocca su una frequenza più bassa ecco che un woofer in bass reflex per il momento parliamo solo le basse reflex per avere della una frequenza di risonanza bassa deve avere oltre alle caratteristiche dell'altoparlante normalmente una dimensione molto grossa in questo caso lui sarà accordato cioè sarà studiato perfettamente per rendere al meglio su una frequenza bassa mentre il nostro satellite sarà probabilmente studiato per avere una frequenza di risonanza cioè dove lui rende meglio più alta di quella del subwoofer ecco in questo caso il subwoofer va a completare la gamma del satellite magari di un ottava inferiore beh che cosa sto dicendo che un subwoofer deve avere per forza un woofer grosso molto cedevole con un volume d'aria gigantesco sì se parliamo di bass reflex ma sicuramente avrete visto che in commercio ci sono un sacco di altri subwoofer che costano anche parecchio anche blasonati che non sono assolutamente così grossi e che non sono il reflex tant'è che non si vede nell'altoparlante nel buco di accordo tipico del bass reflex questi sono tipi di caricamento diversi ed ingegneri hanno studiato proprio per fare in modo che i subwoofer non siano ingombranti non siano grosse in pratica non siano utilizzabili nella maggior parte dei nostri casi né in auto né in casa al cinema magari sì ma non certo in un appartamento vi ricordo che accordare un woofer vuol dire costruirgli intorno un mobile un cabinet fatto in modo di sfruttare al meglio le caratteristiche il woofer facendo risuonare sia lui ma soprattutto l'aria che ha davanti e dietro accordarla appunto per farla risuonare al meglio prendete una corda di metallo tiratela tra due dita solleticatela e non emetterà nessun suono ma se questa corda l'appoggiate ai ponticelle di una chitarra che ha il buco e la sua bella forma si usa di legno e la pizzichiamo a questo punto sentiremo un suono ecco che la vibrazione una corda in aria libera non da un granché se invece facciamo risuonare il mobile di una chitarra e la sfrutto all'aria che c'è l'interno ne uscirà un suono questo hanno fatto i progettisti quando hanno creato di subwoofer con caricamenti in bass reflex con caricamento a tromba con il caricamento trasmission line con caricamento doppio reflex doppio reflex simmetrico col radiatore passivo in push pull è una serie di altri caricamenti diversi ce ne sono davvero tanti che non elencheremo non spiegheremo il cui risultato è fare in modo di avere una quantità di bassi elevata con un mobile piccolo il più piccolo possibile altrimenti non è di così difficile accordare su una frequenza molto bassa un woofer utilizzando il classico bassa reflex la tromba ad esempio sarebbe ancora più efficiente del bass reflex ma per scendere così tanto avrebbe bisogno di una estensione lunghissima e grandissima per cui subwoofer a tromba diciamo che non esistono un accenno solamente a questi tipi di caricamento che state intravedendo in pratica si cerca di accordare come avevo detto non solo la parte posteriore del dell'aria mossa dal woofer come succede nel reflex ma addirittura di far risuonare e di accordare anche la parte anteriore creando una camera davanti al nostro woofer quindi non che non sarà più quindi ad emissione diretta ma farà vibrare a sua volta un accordo reflex o due accordi reflex o tre addirittura accordi reflex e questo creerà non una sola frequenza di risonanza del sistema ma due spesso molto vicine che hanno grazie a questo tipo di accoppiamento un vantaggio e mo svantaggio il vantaggio è quello di essere molto molto efficienti nelle loro frequenze di risonanza lo svantaggio è che la banda passante cioè la zona di lavoro dove loro riescono a lavorare così bene è estremamente stretta un woofer caricato in marx reflex è efficiente e da una banda passante abbastanza larga un woofer caricato in uno dei vari carichi che abbiamo visto doppi è ancora più efficiente sui bassi ma in una zona estremamente limitata ed ecco perché è importante curare la frequenza di risonanza del nostro software per fare in modo che sia inferiore e non vada a sovrapporsi a quella del del suo satellite un'altra cosa da curare l'efficienza del nostro software se molto più efficiente del satellite sentiremo troppi bassi ed in particolare i bassi riprodotti da questi accordi doppi che hanno una banda passante particolarmente ristretta è che se il nostro software se lo sentiamo troppo proprio perché lavora su una banda così stretta farà sempre la stessa nota che appena acceso ci dirà caspita quanti bassi ma dopo un po renderà la riproduzione dei bassi monotona anzi monotona sempre solo una nota sembrerà più un muggito che un basso questa è una cosa che bisogna fare attenzione quando si usano questi carichi estremi molto efficienti che permettono volumi molto piccoli ma come abbiamo visto che hanno una banda passante troppo stretta un carico particolare è il transmission line il nome ci dice che si di una linea di trasmissione c'è in pratica la parte posteriore del woofer viene accordata secondo una legge per cui una canna una colonna d'aria risuona quattro volte la lunghezza della frequenza tonda della canna stessa sono avete presente la canne di un organo le canne che riproducono note basse sono estremamente grosse ed alte e non hanno altoparlante dentro ma è proprio l'aria che c'è all'interno di questa colonna grossa e molto alta che risuona ricreando quelle frequenze così basse tipiche dell'organo canne quella è una trasmission line eccitato dall'aria e non da un woofer la stessa cosa fanno i progettisti quando creano questi mobili complicatissimi che vedete in foto dove c'è un condotto molto molto lungo la cui lunghezza ha a che fare con la frequenza di accordo ancora una volta di nostro interesse purtroppo sono altoparlanti molto difficili da fare assolutamente ingombranti in questo caso e che se da una parte scendono molto di frequenza dall'altra parte non sono efficienti insomma non è il subwoofer per l'eccellenza per un uso caselingo se proprio volete saperlo è il basso che preferisco io avevo delle tdl delle casse caricate appunto in trasmission line mini di trasmissione ora non le ho più avevamo detto che avremmo parlato di qualche curiosità allora possiamo vedere nelle foto il più piccolo subwoofer del mondo ma potrebbe essere questo il più grande subwoofer del mondo potrebbe essere quest'altro è un esercizio tecnologico non sarà mai un altoparlante che potremmo trovare in commercio mentre potremmo trovare anzi c'è in commercio un subwoofer una serie subwoofer molto particolare che usano come altoparlante come driver come motore questo buffer della power soft italianissima power soft è un buffer molto strano perché non sfrutta il solito sistema di bobina mobile che abbiamo visto già quando abbiamo parlato di buffere in un altro video mamma mia ma per farla breve invece di avere la bobina mobile ha il magnete mobile quindi un motore è amplificato questo subwoofer che usa un procedimento diverso ma che ottiene risultati devastanti tant'è che i subwoofer che utilizzano questa tecnologia sono spessissimo usati come infra sub per riprodurre frequenza addirittura al di sotto della soglia uditiva ad esempio in qualche cinema in qualche parco a tema ad esempio in finlandia che parla di terremoti e di movimenti tettonici o si è accordato un pochino più in alto in grossi impianti di amplificazione per concerti all'aperto come mai non lo usano tutti costa costa un sacco di soldi come vedete anche in questo caso come in tutto il mondo audio forse in tutto l'universo è sempre una questione di compromessi un altoparlante vogliamo che scende in basso deve essere grande se vogliamo che sia piccola avrà una banda passante stretta se vogliamo che sia contemporaneamente piccolo ma potentissimo costa un sacco di soldi insomma è tutto un compromesso e comunque adesso è ora di smettere prima che comprometta la vostra pazienza per cui vi rimando al prossimo video con il solito a presto